Per completare in tempi rapidi una ricostruzione post-sisma adeguata, è fondamentale la qualità e la collaborazione dei professionisti e dell'attività tecnica ed amministrativa. Partendo da questo assunto, il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha chiamato questa mattina, mercoledì 16 novembre, a raccolta a Palazzo Raffaello tutti gli ordini e collegi professionali delle Marche, per illustrare nel dettaglio il Decreto Legge 205 dell'11 novembre e per coordinare le azioni tra protezione civile, amministrazioni e professionisti. A tal proposito sarà costituito un tavolo con un rappresentante per ogni ordine professionale, da convocare a scadenze programmate per confrontarsi e condividere problemi, progetti e strategie. L'idea è stata accolta con favore dai professionisti che hanno espresso apprezzamento per il coinvolgimento e per il riconoscimento del ruolo svolto. La ricostruzione, l'emergenza, la gestione del sisma hanno fortemente bisogno di professionalità, ha sottolineato Ceriscioli. Gli ordini, prosegue ancora nella nota, racchiudono quel mondo di competenze che all'interno della Regione possono dare un grandissimo contributo in tutto il percorso. Laddove lo Stato ha già riservato con propri atti le risorse e le regole, sarà poi lavoro fatto in termini di progetti e di attività da parte dei professionisti a fornire le gambe per proseguire nel percorso. Lo faremo tutti insieme, ha sottolineato il governatore delle Marche in conferenza. Costituiremo un tavolo istituzionale con la presenza di tutti gli ordini che hanno espresso grande entusiasmo in termini di collaborazione. Tra gli altri argomenti significativi all'ordine del giorno, la necessità condivisa di strutturare un percorso di qualità, a partire dalle prismissime fasi post-emergenza, fino alla ricostruzione, in cui il ruolo e le competenze dei professionisti saranno determinanti, soprattutto nella gestione delle situazioni più complesse in cui andranno effettuate scelte strutturali, estetiche, di materiali, di rapporto con il patrimonio storico regionale. Sarà fondamentale in primo luogo allargare la base dei certificatori Aedes, poiché questa situazione eccezionale senza precedenti richiede concretamente di aumentare le squadre. In questa prima fase, ha affermato il Presidente, la missione comune è il percorso di certificazione dei danni. L'intero percorso, ha aggiunto Ceriscioli, passa per la qualità delle procedure di avvio, che saranno determinanti anche rispetto al meccanismo di pagamento previsto dal decreto, basato sugli stati di avanzamento e non sull'erogazione dei contributi.